Carissimi amici in ascolto, un cordiale saluto, ancora l'augurio di una felice e serena domenica da Orazio Coclite che vi parla e da Adriano Vitali alla Consor per la parte tecnica. Siete collegati in diretta con Piazza San Pietro dove tra poco Papa Francesco si affaccerà dalla finestra del suo studio privato per guidare la preghiera mariana dell'Angelus. Sono tanti i pellegrini fedeli presenti questa mattina in piazza tutti con il naso all'insù a guardare la finestra dove tra poco si affacerà il Pontefice. Prima della preghiera, come di consueto, ci sarà una breve allocuzione, un breve discorso di Papa Francesco incentrato sicuramente alla festività di oggi, oggi 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore che conclude il tempo di Natale. Ci conduce questa festa alla soglia della vita pubblica di Gesù e ci introduce nel mistero della sua missione. Mostrandoci Gesù il figlio prediletto investito dallo Spirito Santo che vuole essere solidale con il popolo peccatore, essa illumina la nostra vita. Battezzati da Gesù nello Spirito Santo dobbiamo diventare figli di Dio e prendere parte alla sua missione. E proprio in questo giorno Papa Francesco Stamane, nella splendida cornice della Cappella Sistina, ha impartito il sacramento del Battesimo a 32 bambini, figli questi di dipendenti della città del Vaticano. 32 bambini di questi 18 maschietti e 14 femminucce. Oggi, come dicevo, concludendo il tempo di Natale, celebriamo la festa del Battesimo di Gesù. Pur non essendo peccatore, egli ricevette, come abbiamo sentito nel Vangelo odierno, ricevette da Giovanni Battista il Battesimo di Penitenza per essere solidale con noi fino in fondo, per prendere su di sé i nostri peccati e farsi servo per amore. Ricordiamo allora il dono del Battesimo che abbiamo ricevuto e rinnoviamo il nostro impegno a vivere da veri discepoli di Gesù. Ecco che in questo momento, a mezzogiorno in punto, si apre la tenda e apparso Papa Francesco sta salutando i pellegrini. Quindi adesso ascoltiamo quanto ha da dirci il Pontefice e poi recitiamo insieme a lui la preghiera dell'Angelus. Buongiorno, ancora una volta ho avuto la gioia di battesare alcuni bambini nella odierna festa del Battesimo del Signore. Oggi erano 32. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. La liturgia di quest'anno ci propone l'evento del Battesimo di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo. L'Evangelista descrive il dialogo fra Gesù, che chiede il Battesimo, e Giovanni Battista, che vuole rifutarsi e osserva. «Sono io che ho bisogno di essere battesato da te, e tu vieni da me?» Questa decisione di Gesù sorprende il Battista. Infatti il Messia non ha bisogno di essere purificato. E' lui invece che purifica. Ma Dio è il Santo. Le sue vie non sono le nostre. E Gesù è la via di Dio. Una via imprevivibile. Ricordiamo che Dio è il Dio delle sorprese. Giovanni aveva dichiarato che fra lui e Gesù esisteva una distanza abissale, incolmabile. «Non sono degno di portargli i sandali», aveva detto. «Ma il Figlio di Dio è venuto proprio per colmare questa distanza fra l'uomo e Dio». Se Gesù è tutto dalla parte di Dio è anche tutto dalla parte dell'uomo e riunisce ciò che era diviso. Per questo egli replica a Giovanni, «Lascia fare pur ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Il Messia chiede di essere battesato perché si compia ogni giustizia. Si realizza il disegno del Padre che passa attraverso la via dell'obbedienza figliale, della solidarietà con l'uomo fragile e pecatore e la via dell'umiltà e della piena vicinanza di Dio ai Suoi figli. Anche il profeta Isaia annuncia la giustizia del servo di Dio, che realizza la sua missione nel modo con uno stile contrario allo stile mondano. «Non griderà né alzará il tono», dice il profeta. «Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta». E l'atteggiamento della mitezza, è questo che ci insegna Gesù con la Sua umiltà, la mitezza. L'atteggiamento della semplicità, del rispetto, della moderazione, del nascondimento, richiesto anche oggi ai discepoli del Signore. Quanti, è triste dirlo, ma quanti discepoli del Signore si pavoneggiano di essere discepoli del Signore. Non è un buon discipolo quello che si pavoneggia. Il buon discipolo è l'umile, il mite, quello che fa il bene senza farsi vedere. Nell'azione missionaria, la comunità cristiana è chiamata ad andare incontro agli sempre, proponendo e non imponendo, dando testimonianza, condividendo la vita concreta della gente. Appena Gesù fu battessato nel fiume Giordano, si aprirono i cieli e scesse su di Lui lo Spirito Santo come una colomba, mentre dall'alto risuonò una voce che diceva, «Questi è il figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento». Nella festa del Battessimo di Gesù riscopriamo il nostro Battessimo. Come Gesù è il figlio amato del Padre, anche noi, rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, sappiamo di essere figli amati. Il Padre ci ama a tutti. Oggetto del compaccimento di Dio, fratelli di tanti antifratelli, investiti di una grande missione per testimoniare e annunciare a tutti gli uomini l'amore sconfinato del Padre. E questa festa del Battessimo di Gesù ci fa ricordare il proprio Battessimo, il nostro Battessimo. Anche noi siamo stati re nati. Nel Battessimo è venuto lo Spirito Santo a rimanere in noi. Per questo è importante ricordare, sapere qual è la data del mio Battessimo. Noi sappiamo qual è la data della nostra nascita, ma non sempre sappiamo qual è la data del nostro Battessimo. Sicuramente qualcuno di voi non lo sa. Un compito per fare a casa. Quando tornerete, domandate. Quando sono stato battessato? Quando sono stato battessato? E festeggiare nel cuore la data del Battessimo ogni anno. Fatelo. Anche è un dovere di giustizia verso il Signore che è stato tanto buono con noi. Maria Santissima ci aiuti a comprendere sempre più il dono del Battessimo e a viverlo con coerenza nelle situazioni di ogni giorno. Angelus, homini, nunziabit Maria. Et concepiti, Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui Iesos. Santa Maria, grazia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui Iesos. Santa Maria, grazia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui Iesos. Ave Maria, grazia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui Iesos. Santa Maria, madre dei, ora pro novi spieccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro novi, santa digenitris. Udini e fischiamo, pronuncionibus Christi. Grazie a tu, anque somo domini, bus nostri sin funde. Chiangelo nunziante, Cristi, figli tui, incarnazione cognovium, per passione meios al crucen, a rassolazione in gloria per aducamur, per Christum Domino Nostrum. Amen. Glorie a Patria et Figliot e Spiritus Sancto. Sicco terra et in principio, et nunc et sempre, et in secola secolorum, amen. Glorie a Patria et Figliot e Spiritus Sancto. Sicco terra et in principio, et nunc et sempre, et in secola secolorum, amen. Glorie a Patria et Figliot e Spiritus Sancto. Sicco terra et in principio, et nunc et sempre, et in secola secolorum, amen. Profideli Bustefuntis, Rechim Eterna, Dona eis Domine. Rechiescant in pace. Sìt Nomen Domini Benedictum. Aiutoio Nostrum in Nomine Domini. Benedicat Vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E abbiamo ricitato insieme a Papa Francesco la preghiera mariana dell'Angelus. A tutti voi, cari romani e pellegrini, mio saluto cordiale alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e ai singoli fedeli. Saluto i giovani del Movimento dei Focolari provenienti da Colombia, da Colombia, Brasile, Paraguay e Corea. Convenuti a Roma per un corso di formazione a cent'anni della nascita della serva di Dio Chiara Lubic. Saluto i fedeli di Otranto e il coro Alma Gaudia di Manduria. auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Bene, con la richiesta di pregare per lui, l'augurio di un buon pranzo e un arrivederci, si è conclusa la preghiera mariana dell'Angelus, recitata da Papa Francesco con i tanti pellegrini presenti questa domenica, domenica 12 gennaio, qui in Piazza San Pietro. Ecco che suonano anche le campane della Basilica. Il discorso che ha preceduto la preghiera dell'Angelus è stato incentrato un po' alla festa di oggi e innanzitutto ha ricordato la gioia di aver battezzato alcuni bambini esattamente 32 nell'odierna festa del battesimo del Signore e ha chiesto di pregare per loro e per le loro famiglie. E poi ha ricordato la liturgia che ci propone l'evento del battesimo di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo. L'Evangelista descrive il dialogo fra Gesù che chiede il battesimo e Giovanni Battista che vuole rifiutarsi e osserva «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Questa decisione di Gesù sorprende dunque il battista. Il Messia non ha bisogno di essere purificato e lui invece che purifica. Ma Dio è il Santo, le sue vie non sono le nostre e Gesù è la via di Dio, una via imprevedibile. Bene, questo è quanto ha detto il Papa prima della preghiera mariana dell'Angelus. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e vi rimando alla programmazione di Radio Vaticano Italia. Buona domenica, buona giornata a tutti da Orazio Coclite. Buona domenica, buona giornata a tutti da Orazio Coclite. Buona domenica, buona giornata a tutti da Orazio Coclite.